ok il video è partito l'audio è partito sincronizzazione dell'audio signori buongiorno signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale oggi andiamo a parlare di come ogni personaggio debba avere il suo punto di vista e di come una variazione inaspettata dal punto di vista possa aiutare sia il Master che i giocatori ad avere una maggiore verosimiglianza all'interno della quest uno dei privilegi del Master è quello di avere una conoscenza virtualmente assoluta di tutto quello che riguarda la quest sicuramente il Master non può sapere nel dettaglio come si svilupperà la quest e quasi sempre le quest finiscono in una maniera molto diversa da quella che il Master aveva ipotizzato ma per quanto riguarda la situazione momentanea il Master sa fondamentalmente tutto quello che sta succedendo nel mondo quando i giocatori uccidono il luogotenente del Signore del Male e mandano in rotta le sue truppe liberando così il villaggio assediato i giocatori possono ipotizzare che questo renda gli abitanti del villaggio meglio disposti nei loro confronti e che abbia in qualche modo rovinato la giornata del Signore del Male e che questo adesso stia tramando vendetta nei loro confronti ma il Master avrà una visione molto più chiara e dettagliata su tutto questo rispetto a quella che hanno i suoi giocatori il Master sa esattamente in che modo gli abitanti del villaggio saranno riconoscenti ai giocatori sa esattamente in che modo il Signore del Male vorrà mettere in atto la propria vendetta e magari sa anche che non tutti gli abitanti del villaggio sono riconoscenti agli avventurieri perché uno di loro era una spia al soldo del Signore del Male e che nella corte del Signore del Male uno dei suoi cortigiani in realtà è molto ben disposto verso gli avventurieri perché spera che lo aiutino a uccidere il suo attuale padrone in modo che lui possa sostituirlo Tutte queste informazioni sono indispensabili per il Master in modo da mandare avanti la quest però bisogna fare molta attenzione perché il fatto di conoscere queste informazioni non vuol dire averle comunicate in maniera efficace ai giocatori tramite i loro personaggi Il Master soprattutto nel gioco di ruolo tradizionale è l'interfaccia che i giocatori hanno con il mondo di gioco è lui a dire ciò che i loro personaggi vedono e a far agire tutto quello che i giocatori vedono agire nel mondo come abbiamo visto nei video sull'illusionismo non necessariamente tutto quello che il Master dice ai giocatori è vero e non necessariamente il Master dice tutto ai giocatori ovviamente il Master non dirà ah c'è un assassino nascosto nel vostro armadio non dirà ah quel riperdo che in realtà è una spia al soldo delle multinazionali non dirà uno degli abitanti del villaggio è in realtà una spia del signore del male a meno che i giocatori non abbiano in qualche modo manipolato il gioco non abbiano effettivamente fatto qualcosa superato una prova per avere diritto a ricevere questa informazione il Master però non deve mai fare l'errore di guardare alla quest dal suo punto di vista virtualmente onnisciente perché i giocatori dovranno impegnarsi per ricevere le informazioni corrette ma il Master dovrà fare in modo che tutte le informazioni che sono indispensabili per loro per andare avanti alla storia in un modo o nell'altro gli debbano arrivare e ho sentito molto spesso Master lamentarsi che i loro giocatori non riescono a seguire neanche una trama banalissima ai loro giocatori non interessa niente la storia non capiscono niente di quello che dico per poi parlando con i giocatori scoprire che fondamentalmente la storia esisteva esclusivamente nella testa del Master perché non era stata fornita nessuna informazione a loro che gli facesse capire anche solo vagamente che cosa stava succedendo in quest ricordatevi di questo soprattutto quando andate ad aggiungere nuove informazioni alla quest aggiungete una nuova sottotrama aggiungete un nuovo personaggio cominciate a buttare giù degli appunti per quello che succederà dopo oltre a pensare a quello che deve accadere cominciate da subito a pensare come informare i giocatori su quello che deve accadere se è importante per il proseguo della quest che i giocatori sappiano che uno degli abitanti del villaggio è una spia al soldo del signore del male fate in modo che ci sia un modo abbastanza sicuro perché questa informazione gli arrivi e se non esiste un modo per fargli sapere che quel personaggio è una spia senza infrangere la sospensione dell'incredulità allora probabilmente l'idea della spia non è una buona idea e dovete scartarla ricordatevi anche che ogni volta che voi come master mettete all'interno della storia mettete in tavola un png quello è a tutti gli effetti un personaggio che deve essere interpretato di ruolo tanto quanto sono interpretati di ruolo i personaggi dei giocatori quello sarà un personaggio che ha un suo punto di vista una sua visione del mondo delle sue informazioni e le informazioni e gli scopi di quel png non sono necessariamente in linea con quelli del master per il proseguimento della storia a parole sembra qualcosa di ovvio ma mi è capitato più volte di incontrare nel corso della mia carriera come giocatore master che facevano agire i loro personaggi esplicitamente come mere appendici dell'ambientazione per cui ripetevano infinitamente le stesse cose ogni personaggio diceva esattamente le stesse cose ai personaggi giocanti ogni personaggio aveva esattamente le stesse idee ogni personaggio fondamentalmente era settato per dirigere i personaggi in un'unica direzione e basta ogni png invece dovrebbe percepire il mondo attraverso il proprio specifico punto di vista e quindi comportarsi e soprattutto interpretare gli eventi e le situazioni di gioco in una maniera diversa non necessariamente neanche la maniera corretta ma di questo piuttosto ne parleremo in un altro video però gli abitanti del villaggio non necessariamente hanno la stessa visione degli eventi delle truppe del signore del male che sono state messe in fuga e questo vale per qualunque cosa il corporativo al soldo della megacorporazione avrà una visione del mondo diversa da quella del nomade che gira in motocicletta in mezzo al deserto se poi la vostra campagna non tratta un'ambientazione normale ma è qualcosa di fantasy, fantascienza comunque sono presente di epng che non sono delle persone normali non sono umani anche questo dovrebbe essere fattorizzato nella loro visione del mondo un elfo che ha un'aspettativa di vita di 900 anni molto probabilmente sarà più propenso a temporeggiare e aspettare che le situazioni si risolvano da sole rispetto a un orco che magari ne vive solamente 40 la stessa descrizione che fate del mondo dovrebbe adattarsi al punto di vista dei personaggi la locanda in cui gli avventurieri vanno a mangiare quando escono dal dungeon al personaggio di antico lignaggio nobile cresciuto in un castello potrebbe sembrare un tugurio squallido ma al contrario potrebbe sembrare incredibilmente ampia e lussuosa al barbaro che è nato e cresciuto all'interno di una capanna di paglia e fango anche in questo caso se sono presenti personaggi non umani potrebbero avere un punto di vista ancora più estremo su quello che gli hanno intorno quando gli avventurieri vanno a visitare la città dei nani nel sottosuolo probabilmente la troveranno buia claustrofobica e opprimente ma allo stesso modo il nano che visita la città degli umani probabilmente la troverà architettonicamente instabile troppo esposta e assurdamente luminosa per i suoi gusti all'inizio nelle fasi iniziali della quest quando anche voi state cominciando a conoscere i personaggi e magari i giocatori non hanno ancora finito di svilupparli in maniera corretta è meglio che teniate le vostre descrizioni più stringate e funzionali possibile ma man mano che la quest prosegue quando vi siete fatti un'idea parlando anche con i giocatori su quali sono le opinioni e i punti di vista di ogni singolo personaggio cominciate a integrare questa cosa nella descrizione che fate negli ambienti soprattutto quando un personaggio si trova da solo o magari rivolgendo due descrizioni contemporanee a due membri del party descrivendo un oggetto e poi dicendo a uno che quell'oggetto gli sembra interessante e all'altro che quell'oggetto gli sembra orribile per esempio diciamo che per questo video è tutto probabilmente torneremo a parlare dei png e della loro visione del mondo tra qualche settimana adesso sto finendo di scrivere i video e devo ancora organizzarvi quindi non si vi soddia nello specifico fino ad allora comunque fatemi sapere nella sezione dei commenti qua sotto se avete domande, dubbio, perplessità e anche come voi fate a rendere il punto di vista dei vostri png se non lo rendete perché ritenete sia meglio non renderlo perché ritenete sia meglio renderlo come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate sul tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master Kai e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao